Rudy D'Amico, direttore generale del Notaresco con pagine del Girone A di promozione, allora con quali ambizioni riparte la sua squadra? L'ambizione è sempre quella di fare un campionato in economia senza andare cifre esorbitanti perché come lo stile di Notaresco partire con un fair play finanziario di rimborso spese ai ragazzi congruo è giusto perché sono anche ragazzi che vengono da fuori che viaggiano è l'ambizione di questo campionato, l'anno scorso abbiamo sfiorato i playoff, squadra in corso, sono entrato con la squadra in corso, quest'anno vogliamo rifare un campionato come primo obiettivo come dicono tutti è la salvezza però se dovrebbe arrivare, se dovesse arrivare qualcosa di più ben venga Secondo la sua esperienza qual è la compagine o le compagine più accreditate per il salto di categoria? Del Girone nostro, le squadre che secondo me si riconfermeranno sicuramente, le squadre che l'anno scorso già hanno dato qualcosa tipo Luco, vedo anche bene San Gregorio se una volta amalgamata la squadra Perché no? Devo ancora capire che quello che sulla carta si trasmetta in campo di potenzialità Però diciamo queste due squadre in modo particolare anche forse la Virtus Termo indipendentemente che noi siamo andati sul terreno loro domenica e abbiamo pareggiato essendo privi di 3-4 giocatori quindi deve ancora arrivare un giocatore di peso avanti come notaresco però la Virtus Termo sicuramente farà un buon campionato senza escludere la Sant'Egidiese e qualcuno sulla costa Rudy D'Amico pronto a stupire anche quest'anno? Io non devo stupire nessuno, ci divertiamo, qui calcio non lo facciamo per vincere a tutti i costi di campionato prima di tutto per educare i ragazzi, sono tutti ragazzi giovani, quest'anno notaresco abbiamo parecchi 99, 98, ragazzi interessanti che poi come l'anno scorso pseudoprocuratore o procuratori vengono a disturbare e vengono a portare, illudendo questi ragazzi a essere pronti perché dicono che sono pronti praticamente per nuovi lidi, per nuovi campionati più importanti. I ragazzi devono crescere, devono innanzitutto essere educati allo sport, devono mantenere un atteggiamento di rispetto verso i compagni, verso il pubblico e verso la squadra, noi insegniamo questo, poi dopo il resto quello che verrà a livello di competizione, di calendario e di quant'altro di classifica lo prendiamo di buon grado, indipendentemente da quello che possa essere il risultato. Siamo con Massimo Cinque, presidente del San Gregorio, allora la vostra compagine, secondo gli addetti ai lavori è una delle più attrezzate per disputare un campionato da protagonista, lei è d'accordo con noi? Sì e no, nel senso io ci andrei con i piedi di piombo, nel senso che poi è sempre il campo che dà il suo verdetto quindi sì, abbiamo allestito una squadra abbastanza competitiva, parecchi innesti nuovi, però ripeto, poi le partite vanno giocate ormai è diventato tutto, qualsiasi avversario incontri, sono tutte squadre agguerrite, è un campionato difficile la promozione, per noi questo è il quarto anno, questo che va a iniziare, quindi mi rendo conto che è veramente un campionato molto molto equilibrato, agguerrito, trovi squadre ben organizzate, quindi insomma poi entrano in gioco tanti fattori la fortuna, gli infortuni, insomma, ripeto, andrei un po' con i piedi di piombo, nel senso sì, è una squadra sicuramente una buona squadra, però poi, ecco, ripeto, il campo dirà la sua, è sempre il campo che dà il verdetto Presidente, il prossimo girone A di promozione si preannuncia come uno dei più equilibrati degli ultimi anni secondo lei qual è la compagine o le compagini che insieme al suo San Gregorio potranno disputare un campionato di primo piano? Beh, sinceramente, sicuramente ieri abbiamo giocato in Coppa con il Luco e credo che sia la squadra più accreditata credo che abbia veramente una, abbia messo su una buona squadra veramente competitiva e ce l'hanno, insomma, ripeto, c'è un grosso, secondo me, un grosso equilibrio la Virtustera, Morro d'Oro, quindi insomma, c'è un grosso, grosso equilibrio e vedo tante tante squadre agguerrite, ben organizzate e poi sicuramente, come succede ogni anno, ci sarà qualche sorpresa che viene fuori inaspettatamente, come successe a noi due anni fa che perdemo il campionato alla penultima giornata, praticamente quindi nessuno ci dava assolutamente per favoriti eppure piano piano, piano piano, col gruppo, con l'umiltà, con l'unione abbiamo fatto un campionato strepitoso, quindi credo che ogni anno c'è sempre un outsider e quindi anche quest'anno sicuramente ci sarà qualche squadra al di là delle queste che abbiamo detto, insomma, che sono un po' veramente le più accreditate Aurelio Massacci, direttore sportivo del Ponte Vomano con pagina del Girone A di promozione nel recente mercato estivo sono arrivati calciatori, possiamo dire, di categoria superiore qual è l'obiettivo della vostra squadra? L'obiettivo è fare bene, vogliamo fare un buon campionato ci vogliamo divertire, con una squadra molto giovane abbiamo tenuto il portiere, che è il capitano della squadra, che è il più vecchio e Passamonti e Panetta, che è 88 il resto tutti sopra 90, 91, 94, 95 quindi una squadra molto giovane stiamo lavorando per far bene poi il campionato verrà, quale sarà la nostra posizione Dicevamo poc'anzi con il massimo dirigente del San Gregorio V quello di quest'anno si preannuncia come uno dei tornei più equilibrati degli ultimi anni lei è d'accordo con noi? Sì, secondo me sarà un campionato molto equilibrato molto ben organizzato un campionato dove sono tutte squadre ben organizzate sicuramente vedo un attimino sopra la Virtus perché penso che sia la squadra che abbia speso un po' di più quindi sicuramente la vedo sopra poi in fila vedo anche Luco, San Gregorio quindi sono squadre importanti poi molte non le conosco quindi da rivedere lo stesso Sant'Egillese da rivedere Sant'Omero vediamo Quanto ha portato Massacci nel Ponte Pomano? Non so spero di aver portato un po' di entusiasmo un po' di professionalità e entusiasmo Ugo Petitta, direttore sportivo del Pucetta con pagina del Girone A di promozione l'abbiamo vista prima ritirare il premio per la vittoria dello scorso campionato di prima categoria il Pucetta con rinnovato entusiasmo si prepara ad affrontare la seconda categoria regionale Sì dopo la bella cavalcata dello scorso anno ci stiamo preparando ad affrontare questo nuovo campionato per me e per la società al meglio, speriamo al meglio abbiamo cercato di fare una squadra giovane tra virgolette con la speranza di mantenere la categoria Ugo Petitta oltre alle capacità di direttore sportivo è conosciuto come talent scout del panorama calcistico marzicano quest'anno è pronto a stupirci ancora con qualche giovane talento? Probabilmente sì però poi è il campo che parlerà vediamo un attimino l'obiettivo come hai detto lei è la salvezza Sì, sì, la salvezza ci dobbiamo salvare il prima possibile proprio per cercare di di far esordire i più giovani possibili l'obiettivo come hai detto lei è la salvezza